Il ragazzino ha assassinato suo padre in modo brutale. Guidato da una forza potentissima. Una forza in grado di prendere il comando del suo corpo? Ma questo non è possibile. Ti sbaglilo, eh? Solo ora è successo davanti ai nostri occhi. Un corpo umano può essere posseduto solo da divinità superiori. Significa che la creatura che hai ucciso era stata inviata dagli dèi bianchi con l'obiettivo di fermare un pericoloso predatore e tu le hai impedito di farlo. Prepara una pergamena. Andiamo? Andiamo?